FIFA 18 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 Diciamo che può andar bene Prendiamo Zilli lo mettiamo di qua 94-93 Forza 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 raga Savic 88 lo prendiamo Madonna abbiamo fatto 94-99 Per un attimo vaffanculo gli argentoni Però forse è meglio me la dare subito Meglio me la dare subito ragazzi 93-93 mancano ancora due giocatori Due cavolo di giocatori ragazzi ti prego FIFA E' abbastanza buono questo Mannaggia la miseria 93 ultimo giocatore ti prego Oh Sommer 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 92 Non ci credo No raga non ci credo 92-93 No no devo trovare il moto Non mi interessa Devo trovare il moto raga Cioè addirittura siamo arrivati al 94 prima 93-93 93-93 93-93 Perché rimane tutto uguale Perché rimane tutto uguale 93-93 Dove cambio cambio rimane tutto uguale Prendo un attimo allenatore Prendo un attimo allenatore Liga Santandero Dio eccezionali 93-95 raga 93-95 E si adesso non va bene niente Dai 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 93-95 No raga ce la dobbiamo fare Non mi interessa Concentrazione Concentrazione giocheri 93-96 93-96 Eh Perisic Andano mi cerca qualcosa Servo Non l'ho detto Fammi fai i cambi Dai pure sto cavolo De Perisic E Melinko I Savic Qualcuno Sterling Benazia 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 Oh mio dio raga l'ho fatto Oh mio dio raga l'ho fatto Oh mio dio raga l'ho fatto Dai così cavolo 193 draft challenge raga 193 foot draft challenge Porca puttana Oddio Io non tocco più niente Non tocco più niente raga Godiamoci questo momento 193 ce l'abbiamo fatta Io non tocco più niente così Mio dio raga Con Benazia 84 E pareglie 82 Ce l'abbiamo fatta Ma che squadra raga Che squadra Finalmente cavolo Boom baby Boom baby raga E dobbiamo arrivare a 20.000 mi piace signori Assolutamente 20.000 pollicioni in su Mamma mia raga finalmente 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 raga Che soddisfazione E adesso Si punta Al 194 Madonna mia che squadra Se mi dava Ronaldo 99 raga O mi dava un Modric secondo me Facevamo il 194 Porca miseria Ma va bene così sono contentissimo Signori Questo video è giunto a termine Io spero vi sia piaciuto Quindi mi raccomando Vi invito a passare Qui a fianco a me ragazzi Dove troverete due video Che se tante volte ancora non l'ate visti Qui sotto a me ragazzi Iscrivetevi al canale Mi raccomando Cliccate anche sulla campanella Che trovate qua sotto Mi raccomando Cliccateci E vi arriveranno sempre le feed Speriamo Finalmente ce l'abbiamo fatta Vi vedrà ancora 20.000 mi piace Noi ci vediamo con un prossimo apportamento Ditemi Se volete Che gioco con questa squadra Un bel draft Mi raccomando Tutti quanti insieme Fate sempre Qua sotto nei commenti Noi ci vediamo In un prossimo video Madonna che soddisfazione E Bene ragazzuoli Che gioco con questa squadra